Il 18 settembre ci sarà un incontro a Brera sul tema del trasporto delle opere d'arte. L'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro studia questo tema da molti anni. Negli ultimi anni però è stata attivata una collaborazione con il MIUR, quindi il Ministero dell'Università e della Ricerca, grazie ad un accordo quadro che è stato stilato tra MIBACT e MIUR. A seguito di questo accordo quadro è partito un progetto, il progetto Safe Heart, in collaborazione tra noi, Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, il Dipartimento di Informatica della Sapienza e uno spin-off interdipartimentale sempre della Sapienza. Questo progetto ha diversi obiettivi. Il primo obiettivo è stato quello di sviluppare della strumentazione che avesse dei requisiti di accuratezza tali da rendere i dati raccolti validi per poter essere analizzati e confrontati. Due parole. Il monitoraggio riguarda la misura della temperatura, la misura dell'umidità relativa, la misura degli shock e delle vibrazioni che le opere subiscono nel corso della loro movimentazione. Dunque queste misure devono essere fatte con una accuratezza tale che consentano poi di essere confrontate fra loro, consentano di essere poi utilizzate per i passi successivi del progetto. Premetto che una modalità di trasporto ideale non esiste. Ogni trasporto implica un rischio, ogni trasporto deve essere pianificato e progettato. Ultimamente abbiamo avuto l'onore di collaborare con il Castello Sforzesco per la movimentazione della pietà a Rondanini. Bene, dunque in questa occasione abbiamo potuto partire dall'oggetto, quindi con uno studio molto accurato dell'oggetto, delle sue criticità, del suo stato di conservazione. Sulla base di questo è stato possibile poi progettare la modalità di movimentazione in modo da ridurre al minimo i rischi legati a qualunque trasporto.